Musica Ben tornati sul mio canale Sul mio canale con il bellissimo GTA 5 GTA 5 dove dovrei iniziare la missione con Beverly Con Beverly, Tizio, Caio e Sempronio E cercavo ecco un parcheggio Ok Allora, sono con Franklin Perché sono con Franklin? Perché non c'è stanno missioni particolari da fare Quindi essendo con Franklin Corri Franklin, magari se c'è un cuore per fare un cazzo di favore Ok E non suona Bene Allora ragazzi, non sono usciti i video questa settimana Questi due giorni, giovedì, venerdì, sabato No, solo sabato e domenica Sabato e domenica perché sabato mattina Infatti sono ancora un po' dolorante Mi hanno operato al dente Mi hanno tolto un dente, regà Oddio dolore, pazzesco dolore E vabbè Ehm Qui c'era Beh, vabbè Non c'è nessuno Minchia me ne vado Capito Me ne vado perché tanto E dicevo Mi hanno tolto un dente Quindi non ho potuto registrare Ehm Tuttora sono ancora un po' Dolorante Un po' Acciaccato Però Ehm Riesco più o meno A parlare Anche se Mi perdo tipo 12-13 kg di bava a botta Però vabbè Lasciamo perdere Sta cosa che non è carina Ehm Continuiamo ad andare in giro Ecco lì a P Perché adesso Ritorno a P Se poi mi è andata via Taglie 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 Ok Torniamo da P un secondo Che vorrei vedere Chi cazzo è P E che cazzo vuole P Allora Oh Acciaggia la vacca tua Ah ecco Ok Mannaggia sto coglione No Si è strappato via i coglioni Mannaggia è un bravo coglione Sì 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 Bravissimo Sì 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 Mamma mia che tisi Ma lì c'è uno scaravaggio che cammina Regà Uno scaravaggio che cammina Tutto a destra L'avete visto Era un ombra Camminavo Ok Madonna regà Questo è proprio Un coglione E vabbè Se è stupido lui Sarà stupido lui Bene A posto Abbiamo fatto P Abbiamo fatto P Andiamo a vedere B Che B dovrebbe essere qui vicino Sì esatto Ok Andiamo a vedere B Allora Ragazzi che mi dite Di questo bel giochino Che ne pensate Sta andando bene L'abbiamo quasi finito Io non ne ho idea perché Non mi ricordo Quando è che più o meno Finisce A parte Il colpo finale Però mi pare che quello È tra un bel po' Scusate un secondo Io ho la mappa No Ho la fottuta mappa Perché non uso la fottuta mappa No 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 Questo Questo Barry Barry Ok Scusate Non è GTA San Andreas Che non c'è la mappa Qui la mappa Ce l'avemo Il navigatore ce l'avemo Usamolo Riposa il cervello Come dice Oh Nascituostri Vostri 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 Ok dicevo A parte rubare L'ultimo L'ultima parte Tutti quei milioni Da quella banca Bellissima Che ci aspetta Che prima o poi faremo E che non vedo l'ora Perché voglio Massacrarla tutta Quella Casso di banca E vorrei prendermi Tutti quei Bei milioni Dollaroni Sbrondaroni Sgindendori Wow Frena Radello Siamo arrivati Frena Siamo arrivati Ok È arrivato Da B È lei È lei Ah no È il coglione Non è lei Eh sì Non è lei È il coglione È quello delle canne C'è È andare Sì 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 Prima di casa Sì 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 Bene. E adesso Franklin ci saluta per un bel periodo. Eh? Allora Franklin è immune a quanto pare a sta cazzo di... A quanto pare Franklin è immune da sta cazzo di erba qui. Non gli fa un cacchio. Non vede gli alieni, non vede in casa, non vede niente. Dovrebbe vedere gli alieni ma non li vede. Ma va bene, è uguale, non fa niente. Ma non vi preoccupate, non vi preoccupate. Allora andiamo a fare qualche altra missioncina. Eh, a quanto pare però si è bloccato. Eh, allora probabilmente dovrebbe arrivare la cosa degli alieni. Dovrebbe arrivare. Bene, perfetto. Perfetto, perfetto. Levatevi un po' dalle palle. Perché se... Non mi dà niente ancora. Eccolo. Nuovo contatto Barry. Ah, no, no. Abbiamo solo il contatto di Barry. Ok, perfetto. Non so cosa ci posso fare con il contatto di Barry. Ancora non ho ben ferrato. Che cazzo facci? Perché tanto a me non mi serve... Ehm... Comprare erba finta o erba stupida per questo coglione. Chi è? Ehi amico, senti un po' le voci di recebbilità. Ma senti un po' le voci di recebbilità. C'è la possibilità di fare dei grandi scupti. Ho inviato le coordinate. Chiamami quando arrivi lì. Ok. Bene. Mi ha inviato le coordinate. Andiamo a vederle. Andiamo a vederle. Eccola lì. Questa è una coordinata. Quella è un'altra. Ok, allora. Facciamo così, eh. Facciamo che mi fai venire qui. E poi... Andiamo a vedere. Ok. Allora. Sto facendo un po' di queste missioni. Perché non ci sono missioni particolarmente attive sul... Ehm... Sul cazzo sbagliato. Sulla storia. Dobbiamo aspettare probabilmente che Franklin... No! Porca bacca. L'ho schiacciato addosso al muro sto tizio. Però è uguale. Non fa niente. Elevatevi un po' dalle palle. Grazie. Sto massacrando la mia vettura. Per colpa vostra. Non ho il nos. Non ho il nos. Che palle. Oh. Sant'Andreas più bello. C'è il nos. Che in cambio è un cazzo. La velocità è sempre la stessa. Però comunque c'è il nos. Dio che pacchia, regà. Quello il nos del cacchio. È stupendo. Allora. Andiamo... Ehm! Tua nonna. Tua nonna. Quella sossa di tua nonna. Ok. Dovrei avere la macchinetta fotografica a sto punto. Eh. Data dal signor... Vatta a piander secchio. Vatta a piander secchio. Levati un po'. Ok. Siamo arrivati al punto. Eccolo qui. Ok. Ok, andiamo dal contatto di questo tizio maledetto, di Beverly. Ok, andiamo al contatto, dove sta, dove sta? Ah, qui, al caffè Vatappian del Secchio. Ok. Ok, non è un problema, ma scusate, andiamo dal tetto, no? Invia Beverly una foto della principessa. Ah! Dal tetto. Eccolo lì, infatti ho fallito perché mi sono fatto vedere se... 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 lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Ho sbagliato, dovevo salire dal tetto di là, porca Eva Zozzalurida. Porca Eva Zozzalurida. Da qua. Eccolo qui. Devo usare la macchinetta del telefono. Oop. E op. No, 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 no. Più avanti. Uh! Troppo. Va bene, però, va bene. Ok. Ok. Eh, invia foto. No! Morca vacca ladra. Ecco. Ma la devo rifare perché sono un coglione. La devo rifare perché sono un coglione. Ok, ne ho fatta un'altra e mo adesso gliela invio. A... Beverli. Beverli. Ok. 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 Here you go. This should chill you the fuck out. Oh, one of you aches please pay this. Bella! Adesso leva di ritorno. Ma va? Mo, devi di te. Bene. I really enjoy meeting the underclass. I'm so relatable in that way. Can't wait there. Drink next week. Bene. Perfetto, perfetto. Abbiamo fatto anche questa. E possiamo andarcene con molta più tranquillità. Cioè, più tranquillità. Possiamo andarcene, punto. Eh. Incredibile, ragazzo! That photo is solid gold! This is bigger than climate change! Imagine the headlines! All those kindness puns! Haha, I am gonna be rich! Don't you mean we? Oh, yeah, yeah, yeah. Mi casa, tu casa, you know. I'll catch you later. I need to get this to print! Ok. Bella, fratello. E abbiamo fatto anche questa. Ok. Allora, ragazzi. Io direi di fare una cosa. Passiamo a Trevor. Passiamo a Trevor e vediamo se Trevor ha una missione un po' più... Bella e figa. Anche se sta qua giù. Ah, ma devo vedere anche Michael. Ah, forse Michael ha la missione figa. Bello. Bello. Complimenti, Trevor. Tu sei proprio sveglia? Sì. Oh, mio Dio, ma chi è qua tizia nuda? Oddio, che schifo! Ma cos'è? Madonna. Tutta butterata. Ma che hai fatto, zia? A parte che il tizio qui è un po' imbriaco. È un po' imbriaco. Allora, questo è Michael. Vedete? 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 È tutto una roba di Michael. 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 Andiamo da Michael. Intanto Trevor lo stambria come una zucchina a mezzo a una spiaggia. Con una buzzicozza che la guarda e l'osserva. Che schifo. Nulla a che vedere. Eh, non... Non voglio offendere nessuno. Però... Madonna. Da dove cazzo sei uscito? Che cazzo è clappers? Che cazzo è clappers? Von Krasenburg. Che cazzo è von Krasenburg? Come cazzo? Tepermente è uscito da sti posti senza dimmi un cazzo. Franklin. Ho trovato quella cosa che ci perso. Forse ho qualcosa. Ok. Perfetto. Ok. Ok. Uh, fermi, 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 fermi. Ho una mail. Ok. Un messaggio. Una mail. Una mail. Il problema è che il signor De Santa sottotroverà l'elenco degli introiti settimanali della sua proprietà. Woo! Buon arribiletto dell'omero. Ok. Ti ringrazio, fratello. Mi sono entrati 960 dollari per la mia attività. Oh mio Dio, sto a 855.000 dollari! Ok. Allora, andiamo alla M. No, 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 no. M. Di Michael. Che sicuramente è a casa. Perché ho visto la cosa per... Oh! Che schifo di macchina. Questo è perché mi... Ermi fio? Ermi fio? Quo strusso. Ermi fio? Che era meglio... Eh! Levati un po' dalle palle. Guarda che macchina mi ha tamponato. Pure morto, quel tizio. Ok. Perché questo è il mio fio? Il mio fio che non si fa mai di cazzo. Ok. Questo è il mio fio che non si fa mai di cazzo. Per i suoi. E mi deve modificare la fottuta macchina. Ok. Eh! Levati un po'. Però ragazzi siamo arrivati a 15 minuti. Allora facciamo così. Nel prossimo episodio faremo la missione. Perché oggi ci siamo divertiti un po' con Franklin. E nel prossimo episodio faremo... Ehi! Adesso vado verso casa. Salvo la partita. E poi nel prossimo episodio... Ok. No. Ancora abbiamo altro. E... Faremo... La missione con Michael. Eccolo là. Sì, infatti. La missione è lì. Ok. Ok. Andiamo a salvare la partita prima che mi venga un... Un blocco... Computeresco. E che... Ok. Bene. Salviamo la partita. Dai. Su. Su. Su, fratello. Su. Bene, bene, bene. Beh, 56 e 7 è un po' pochino. Pensavo che già stavo... Bello alto. Certo, per finire la storia non serve al 100%. Perché finire al 100% significherebbe elevare tutto. Che cazzo c'è scritto lì? Fuck you very much. Oh, bello. Bello. Bello, 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 bello. Ah, qui c'ho il mio guardaroba. Non mi serve. Grazie. Bene, ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo episodio dove inizieremo la missione con... Signor Michaels. E spero di finire il più presto possibile sto gioco perché... Vorrei cambiare giochi, raga. Io sto facendo GTA da una fottuta vita. E vorrei cambiare giochi. Dato che... Mi sono un po' stufato. Sì, 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 sì. No, vorrei cambiare perché... Sapete che c'è che... Dopo un pochetto annoiano. Cioè, non è che si può fare chissà che. Dopo un po' annoiano. Va bene, ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono in Diti. Ciao a tutti. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Grazie a tutti.